Devo scoprire dove si trova mia moglie. È incinta e dovrei essere con lei. Capo, a quanto pare i tuoi uomini, Laureano e Yusuf sono con lei. Non si preoccupi signora, qui al sicuro. Chiamatemi Mary. La mia famiglia è divisa. Mio padre non avrebbe mai permesso che accadesse una cosa del genere. Ma lì sta per partorire. Non possiamo rimanere troppo a lungo in questo posto. Trovatela e portatela da me. Ma la famiglia Sardi avrà ancora qualcosa da dire. La famiglia Sardi è stata sconvolta dalla scomparsa dei leoni. Allora vai a cercarli. Non sono io chi lavora qua. Ergiberto, conosco abbastanza bene i suoi genitori. Potrò parlare con loro. Giacomo, dobbiamo parlare. Una cosa importante. Ergiberto, lo conosco abbastanza bene. Qualcuno ci ha tradito. Antonio! Non c'era i stupi di venire qui! No c'era i stupi di venire qui! No c'era i stupi di venire qui! ... ... No c'era i stupi di venire qui! Grazie a tutti